Musica Benvenuti al nuovo appuntamento con Fermo Informa TV, il magazine d'approfondimento dedicato al territorio comunale di Fermo e non solo. Una puntata di oggi ricca di servizi, parleremo in apertura di Marina Palmenze con il recupero dell'area ex Campo Volo. L'amministrazione comunale insieme agli architetti e agli ingegneri hanno infatti presentato il piano di recupero che interesserà tutta l'area di Marina Palmenze e l'area di Santa Maria Mare. Una struttura, un parco verde in armonia con il mare, quindi a pochi passi dal mare sotto il borgo medievale di Torre di Palme e nuovi impianti sportivi. Questo ed altro appunto nel progetto illustrato dal sindaco e dell'amministrazione comunale. Vediamolo. Ci tenevo a far vedere che il Comune di Fermo ha raggiunto un accordo con Porto San Giorgio per realizzare questo collegamento lungo lete tra queste due realtà, quindi con un ponte che è pedonale, ciclabile e carrabile. Abbiamo presentato anche il progetto di riqualificazione dell'area di volo, un bel progetto ecosostenibile con tanto verde, tante essenze autoctone e con aree anche che richiamano l'origine di quest'area che era una specie di balude, quindi anche degli stagni, delle aree con degli specchi di acqua dolce. Quindi questa rinaturalizzazione è un importante passo avanti sicuramente per il territorio fermano dove non v'è assolutamente architettura costruita di cemento, è un grande parco didattico, culturale e di svago quindi un valore aggiunto sia per il turismo, sia per il territorio, sia per la città di Fermo. Ingegnere Andrea Storri per parlare di un altro progetto che interesserà l'area di Torre di Marina Palmenze ovvero quello di un campo sportivo polivalente che rappresenterà un valore aggiunto per i residenti e non solo per tutto il territorio. Infatti si tratta di una struttura in legno, un arco a tre cerniere di grandi dimensioni quindi lungo 20 metri e alto 10 che sosterrà un telone resistente al fuoco e all'acqua. Questa struttura è così coperta, avrà delle dimensioni regolamentari di 15x30 con uno spogliatoio adeguato che servirà quindi un utilizzo frequentissimo di tutta questa struttura. E cambiamo argomento per parlare di una rassegna libri, libri in comune. Questo è il titolo che vede protagonissimi un po' i più svariati settori della vita di ogni giorno dal turismo all'enogastronomia fino alla moda. La scarpetta nel piatto è appunto il titolo del primo volume che inaugurerà questa rassegna. Vediamo il servizio. Noi abbiamo delle caratteristiche particolari. Sappiamo apprezzare la bellezza, sappiamo apprezzare le cose buone oltre che belle. E diciamo che siamo stati capaci di portare nel mondo le cose migliori della nostra produzione, delle nostre capacità. Appassionare e orgogliosa di essere marchigiani e di dirlo, di comunicarlo. Cosa che i marchigiani non fanno molto bene. Siamo delle persone eccellenti, lavoratori, che si rimboccono le maniche, che sanno sopperire la difficoltà, però non siamo bravi comunicatori e invece bisogna comunicare quello che si ha. Non dobbiamo inventare nulla, abbiamo delle magnificenze intorno a noi. Che è un fissare su un foglio di carta quelle che sono le caratteristiche, il nostro sapere, la nostra bontà, le nostre tradizioni, che poi sono queste che portano a prodotti di altissima qualità e siamo testimonial nel mondo. E cambiamo argomento per parlare di musica ma anche di beneficenza con un concerto che si terrà al Teatro dell'Aquila, che vedrà protagonisti due importanti esponenti del panorama musicale internazionale. Paolo Fresu, famoso trombettista, e l'artista musicista fermano Daniele di Buonaventura. Insieme, uniti per sostenere il reparto Torino del Murri di Fermo. Noi siamo stati alla conferenza stampa di presentazione. Vediamo. E' un connubio bellissimo tra altre culture e industria, perché non dimentichiamoci che queste manifestazioni sono aiutate da imprenditori e da sponsor. Tutto nasce dal fatto del nostro impegno per poter trovare tutte le strade possibili per sostenere la nostra attività o torino-ringoiatica istituzionale nel pubblico. Crediamo in queste iniziative che valorizzano sia la città e che si rendono utili alla collettività, perché noi siamo un'azienda pubblica, per cui lavoriamo per tutti, è un'azienda di tutti e è giusto che facciamo questi interventi. Questo concerto è stato pensato da Stefano Dalleri e questo vorrei sottolinearlo, perché è un concerto di beneficenza per il centro otorino-ringoiatrico del Fermano. E' importantissimo. Noi come TAM diamo semplicemente un supporto tecnico e siamo non solo orgogliosi, ma veramente lo facciamo con gioia, perché non solo per la beneficenza di questo concerto, ma perché avremo sul palcoscenico tutta una serie di amici che hanno collaborato negli anni passati con TAM. L'appuntamento è particolarmente delicato, perché c'è in concomitanza di questo concerto anche l'uscita che avverrà il 21 gennaio del nuovo disco, che abbiamo fatto il primo disco che faccio anche con Paolo Freso, con un gruppo vocale corso che si chiama Filetta, per la prestigiosa etichetta tedesca ICM. Quindi festeggeremo insieme sul palco del Teatro dell'Aquila anche questo grande evento. Bene, anche per questa puntata di Fermo Informa TV è tutto. L'appuntamento è rinnovato alle prossime edizioni. Vi ricordo che potrete rivedere questa puntata, i servizi di Terra di Marca e di Fermo Informa all'interno del sito internet www.mediatvcom.it Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è rinnovato alle prossime puntate. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.